Aumentano luce e gas, cresce il prezzo dei generi di prima necessità al supermercato e poi c'è l'affitto da pagare. In affanno non sono solo le imprese, i ristoranti, i bar che temono di chiudere. Il pericolo maggiore è per gli anziani che vivono di pensione. Il rischio di perdere la casa o di finire in mano a qualche usuraio è dietro l'angolo. La Caritas ha fatto suonare il campanello d'allarme. Sempre più diffusa è la cosiddetta usura di prossimità. Chi ha bisogno di soldi li chiede al vicino o a uno del quartiere. Un piccolo prestito, seme di 100 euro per pagare una bolletta o per fare la spesa, ma non è detto che la restituzione sia senza interessi. Se alle bollette da pagare si aggiungono anche le rate del mutuo, la situazione diventa ingestibile. Sempre più persone spesso si indebitano e magari cedono il quinto della pensione. Secondo i dati dell'associazione Favor Debitoris, che si impegna contro il debito e la conseguente usura, sono circa centinaia di migliaia i pensionati che si ritrovano già con le pensioni pignorate. In realtà è stato da poco approvato un emendamento al decreto legge aiuti bis che introduce modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni. Si passa cioè da 700 a 1000 euro come soglia sotto la quale le pensioni non possono essere pignorate. Con questo provvedimento una fascia di protezione in più è stata ottenuta. Ma il problema comunque resta. Era così prima della guerra in Ucraina, prima della pandemia. Lo è oggi a maggior ragione e interessa tutto il paese, da nord a sud. Nel 2019, ad esempio, il numero maggiore di case pignorate si è registrato al nord, con una percentuale del 56,86%. Al centro si è attestato al 19,41% e al sud al 23,73%. Insomma, la situazione congiunturale che stiamo vivendo, in particolare il reincaro straordinario dell'energia, sta avendo un forte impatto sulla nostra società. A essere colpiti non sono solo imprenditori e aziende, ma anche famiglie, consumatori e pensionati, che si trovano a fronteggiare il reincaro delle bollette, delle materie prime e, più in generale, la crescita dell'inflazione e del costo del denaro.